buongiorno a tutti ragazzi del vostro carta al curva nord buon sabato mattina quasi sabato a pranzo ragazzi questo non è un video dell'inter vi faccio vedere i miei sabati pomeriggio quando io parto per la trasferta con la mia squadra lungo il viale adesso ragazzi ci condurremo allo stadio allo stadio bianchelli di senigallia per partire appunto per corinaldo dove giocheremo oggi la partita in casa perché il nostro campo purtroppo è in fase di ristrutturazione quindi ragazzi ci vedremo fuori dallo stadio ciao eccoci ragazzi eccoci siamo quasi arrivati allo stadio tanto ragazzi avviamo lentamente siamo lungo sotto i portici ragazzi di questo magnifico posto eccoci qua quindi ragazzi ora come ora mancano pochi metri e siamo arrivati allo stadio bianchelli di senigallia ragazzi eccoci qua quindi ragazzi ora vi racconto i miei sabati pomeriggio con la mia squadra fatemi buttare la sigaretta perché non so da esempio appunto quindi ragazzi oggi video in edito video in edito ma tutto c'è una spiegazione intanto ragazzi se entra vedete lo stadio eccolo qua eccolo qua ragazzi lo stadio che in fase di ristrutturazione e se tutto va bene ce lo li consegneranno appunto a gennaio io tanto ragazzi devo fare una cosina ci vediamo dopo ragazzi al raduno giù in fondo eccoci qua ragazzi sta per partire tra poco sul pullman i ragazzi eccoli quindi ragazzi ci siamo ci vediamo dopo allo stadio dove giocheremo ciao siamo ospitati per la stagione siamo ospitati per la stagione 2018 2019 in questo campo qua ragazzi eccolo qua laggiù in fondo alle casette ragazzi troveremo i spogliatoi queste sono le nostre tribune sperando che ci sia qualche supporter anche se siamo fuori casa quindi ragazzi non vi posso riprendere la partita di oggi perché la federazione ci bloccherebbe appunto le riprese del campo io ragazzi vi porto un attimo nella mia panchina dove sarò speriamo che oggi non mi devo un cazzo perché di solito io lo sapete sono abbastanza emotivo vi sto portando con me dritti dritti alla panchina quindi ragazzi vi ho fatto un bel blog questi sono i miei sabati pomeriggio dove passo con la mia squadra dove sono orgoglioso appunto di far parte di un team molto competitivo siamo ancora quarti non abbiamo fatto ancora nulla siamo a 12 punti ma sono sicuro che ce la potremmo fare ragazzi ce la possiamo fare perché io credo qui ci credo quindi ragazzi ecco le tre ecco le panchine ragazzi da oltre passo sempre quindi ragazzi non mi resta altro che dirvi questo diciamo speriamo che non sia il mio posto dalla panchina fra poco ragazzi dovrò fare il riscaldamento ai portieri appunto quindi questo video si conclude qua ragazzi purtroppo non posso fare altre riprese anche perché purtroppo dopo secondo me la federazione potrebbe bloccare diciamo l'ingresso per far vedere i sponsor tecnico tanto ma non ce ne frega nulla forza senigallia forza ragazzi dai oggi con il ponte sasso si può vincere questi ragazzi è il mio blog spero che vi sia piaciuto vi do appuntamento a domani per la partita e poi qualche altra sorpresina arriverà quindi ciao ragazzi continua iscrivervi al canale mi raccomando vi ho portato dove lavoro appunto il campo di calcio lo sport più bello del mondo ciao ragazzi